via stiamo per avviando le metti il tog più o meno e ti muovi di 2-3 metri si è arrivato altra guarda dite ragazzi spostiamo su gare così almeno non viene qualcuno a rompere i guadagnoli siete pronti? chi è che sta prendendo? io 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 su questa qui no ci sono sorprendenti parmigiana per voi non mi interessa ho fatto le cuffie a mio nipote intanto eh ma qua stiamo facendo veramente oppure è un giro di prova? nooo è a 9 e mezza questo è solo un giro di prova infatti mi sa parire tanto la bala babà guarda se si vede lo streaming va stai già streamando? stai provando a quanti giri sono? sei 14 dovrebbero essere 6 giri perchè sono neanche 3 minuti a giro se non ricordo male un po' che bello se lo stimo di agliacattino sono una bua ti troviamo alla linea verde oh ti sega oh ti sega oh ti sega oh sono ancora vivo mio dio ciao 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 aiuto eh la differenza è parecchia aspetta cazzo sta andando eh se non lo siete manco tu anto ma ho tremuto da me e mi sono trovato in casa e poi che stava impendando è più tondo e poi toccavoli a fare la lista dei contatti è quasi parte raga ah ti ho vagato chissà quando lo metteranno a posto scienziate la wg ho spottato uno e cento ma almeno questa roba qua se fossero pensi ancora quello subito eh chi è questo che imbroglio ma ragazzi perchè è stato qui dove siete? sulla water race è nella stanza qua da dentro da me 3 2 1 via è la stanza da dentro da me via tenchè è bello che sono partito prima vabbè andiamo va vediamo a prima fine mi invitate anche a me così provo anche io un po' di ragazzi si si adesso adesso usciamo e no dai cazzo ma rage mi hai buttato fuori brutto stronzo hai caricato già la mappa quindi devo allenare nel book di fuori ma che devi buttare fuori mi scusa? allarmiti con un altro allarmiti con seraph che secondo me è più bravo hai già scaricato il pacchetto mappa quindi la vedi la mappa ragazzi ma li leggete voi i nomi sopra nella fantata dentro 3 no aia no chi ha questo stronzo qui ma daaa ma non si può ma ma cazzo dategli una penalità no dategli una penalità uno così guardatevi tutta la battaglia sarà incentrata su un altro che vedremo fra foto e si muove in pieno neanche se l'avessi fatto a posto sono riuscito di stare è che tu sei l'unico che la sta prendendo seriamente gli dai anche i consigli ma no ma è bello che io non sto gareggiando e mi ripeto che gareggia ma fatto te hai l'occupaggio al 100%? scusa? hai l'occupaggio al 100%? no al 94 perché? ti posso garantire dico che cambia veramente di poco perché Spiro ha provato al 75% no poco Spiro ha provato al 75% io ho provato al 100% e la differenza non c'era vai dirane un paio ciao sei Raph è stato bello uuuu guarda anche Spiro guarda guarda che bastardo rage che lo butta fuori dal percorso per farlo bannare che stronzo chi è questa cappottale? gli vuole far affogare quella merda ah sei tu Spiro ha girato? adesso butto fuori dal tracciato zig vai a aiutare Spiro che è il nostro compagno di prima vai a tirarlo vai Gelluca vinci oh non ti fermavi sulla foto alla sorella Jacopo chi si è fermato? e guarda e tu invece come sta andando? è buonissimo ma non ho capito che avete combinato tutti e due lui si è scappottato a un certo punto fa come ha dato una testata abbiamo due persone e io e lui ma se venga qua nega volete che vengo a raddrizzarlo io o Spiro? no mi sta facendo affugare quella merda direi io mi tutto che è che cosa sta facendo invece che raddrizzarlo però lo raddrizzo anche da qua se volete ma tu ma proprio qua dovevi morire porca puttana Spiro scura me la guido io guida mio nipote e me la guida si fa niente ma proprio per sbaglio eh fa cos'è morire e quindi che cazzo cos'è mi fate morire vediamo se rifaccio il salto cosa succede no no la città non è una cosa fritti a guarda spiro dove cazzo è andato a morire ma è uscito aspetta ma se è morto stai scusati e coglione quell'altro basena ho sentito bubi dall'altra parte della mappa ero sentito bubi che l'hai detto che sei bravissimo un po' scoppia qualcun altro ah non è mancato ciao ragazzi ciao ah le 21.30 inizia vero? si abbiamo già iniziato si e non mi trollate più dai Gianluca sta prima si è fermato sulla foto sento sento salto essere si ci saranno le prove solite ahahah si e già abbiamo fatto una mera di puttanate guarda la visuale che c'è da qua su hai scaricato la mappa mattia io avevo morato ieri poi mi hai fatto vedere ah si scusa e non mi riparavano ragazzi ma la freccia blu dopo la foto della sorella di Jacopo che serve no 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 dai dai allora fa capire che il sesto giro devi girare a destra perchè il traguardo è quello che c'è a destra ah ok se lo vieni se non abbiamo avuto un cazzo si infatti quindi io sto ancora al terzo giro ho capito cosa mi succedeva eeeh no vabbè ma dai ma sei realmente cos'è che c'è dentro? solo la skin della mappa vero? si è ma dai ma dove cazzo dovevi andare a morire tutti e due si è dentro 15 minuti vabbè ma vai gola fare un po' di pulizia eeeh finchè arrivi ho finito la cariost eeeh allora questo è stato di chilo prima comincia a fare il tintile primo fili con i rocchi prendi le 100 metti su quel punto e ogni giro all'ultimo sparo all'ultimo che passa guarda da freaky che merda che sei ma che merda freaky non mania comicida e guarda quell'altro no scusate dico solo questo non mania comicida non so se vedi da distanza nooo ha fatto bene perchè porca miseria non so se hai visto la distanza la sniperata con le 100 ok scusate scusate ma mi spiegate che state facendo quella già non sai lui che sta stoppando ancora nooo facco dove stai andando? eeeh io non voglio dire o niente aaaaaah eeeh eeeh ma l'unico che la sta prendendo seriamente sono io fatemi capire si ma non ancora per molto non per molto eagle sto venendo a prenderti eeeh va bene questo qua sotto eccolo 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 eeeh e ringrazia masena sennò è il morto il full intanto rage vuoi anche rammarmi sono sempre avanti di un giro di te eeeh sono ancora due vivi da preparare facciamo anche due sai che qualcuno adesso spazio? no che spazio è stata bella palino fighe eeeh eeeh ehi ma adesso dovete distingere eeeh 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 no c'è ehi ma non fate queste bastardate che perchè? Poi a Babu si sapevo che c'era Cosa faccio? Un gatto è un mappe grosso che lo faccio Cosa è mai che lo trovate? Io sti zanetti non trovare Nel buono tanto i servizi Nel pacato o proprio tanto? Sì sono offerti Sì io E la domanda è quando Cammalo L'hai preso Mi salgo sopra Ehi gli ha levato 56 HP E' un colpo di culo E' un colpo di culo Alcuno è incazzato Tutto il giorno è così La vittoria pure addirittura Vabbè scusami Ero da solo Comunque Jacopo ci si è persa una scena bellissima Cioè Io alla prima Il primo salto mi cappotto Mi stavo riaddittando A un certo punto di affacco Faccio un'addittata E era madonna Ma io non l'avevo neanche visto che era fermo sotto eh Beh quella lì si può utilizzare Se non riesce a prendere il frammento del video Tanto è in streaming Ah non mi ricordo le regole Ehi quello che mi hai visto col culo alzato E ti sei piondato Ehi Aspetta sto mettendo ancora le Mi ricordo le regole Cos'è che non si poteva mettere a the kit? Eh Il cioccolato quelle cose lì insomma Gli acceleratori del motore Gravi quindi si può in sostanza kit medico e kit di riparazione Antincendio Anche l'antincendio Anche l'antincendio Anche l'antincendio Anche l'antincendio Tutti bisogna averli Quello in realtà lo fanno forse Però serve un po' in velocità Perchè il tiro Con le molle andavamo Più o meno uguali Però dovresti guadagnare qualcosa Nei salti e negli sferonamenti Ma lo sferonamento com'è? E' libero oppure E' condizionato da qualche regola? Si si Però non si può buttare fuori pista a fare quelle cose lì Ah ok No perchè ho visto altri video su youtube Che sparavano e cingolavano No no qua non puoi avere i proiettili Perchè se spari un colpo sei squalificato Anche perchè con questi carretti Quando sparagli Si prendi il cingolo Ma con gli altri 7 colpi che vanno dappertutto Qualche cosa prendi del giocatore Il culo Andate in officina Mi invitati per favore Stavo cercando di invitare Jacopo Ma non ti vedo dentro Secondo te non funzionano le contatti E' su server 2 E neanche le direttive Si possono mettere Jacopo Io lo so che Jacopo sarà stato studiato Ma se tolgo Scusate ragazzi Non ti vedo Il replay Il replay non ti fa vedere direttive Non ti vedo Jacopo Eh sono sicuro si Eh ma se dipende che direttiva c'hai No no non ti fa vedere direttive Punto Aspetta Dipende che direttiva c'hai Se tu metti tipo la direttiva per via Lo vedi che ricarica più velocemente Eh Ma tanto non spari Si ma quando non spari Ma ho capito Io potrei avere la quale a 100 All'80 All'82 All'81 E poi non sarebbe un po' da stupidi Di mettere quella però Beh mi inviti Duncan Eh se ti vedo Non ti vedo Porco dio E' bloccata la chat dai contatti Se tu sei dentro in game Io ti vedo tra la lista lì E mi dice Titi Ah no perchè non sei un over Porca puzzola Eh infatti sei tu che devi cercare noi No aspetta lo chiamo io Vabbè si è aperta allora ci vado io Si si Ah non funziona Duncan C'ho già provato No sbagliato E' l'unico sistema per invitarlo E' che lui ci cerchi Che cosa non ti salza Tu sei Niente non ti posso tirare dentro perchè non sei un over Devi cercarci tu Ma che cacchio sei in ritardo Eccolo Sei troppo vecchio te lo lascio dire Te lo lascio dire Dai Duncan Tiralo su Escilo Duncan Escilo Escilo Jacopus RGT Pappa 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 Roshek Metti il carro Un attimo Un attimo Vai invitatevi pure a me A questo punto Eh però c'è il carro in battaglia quindi metterò un altro Come un altro ma non metterò Invitato 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 Ma perchè sei andato in battaglia con questo coso Doveva tirare giù la Crivo Eh sì Doveva tirare giù la Crivo Almeno qui Ma va a cagare Vai per ogni tiri sui 9 partite Blu Quello che c'avevo solo 86% io eh Eh madonna Eh sì È arrivato È arrivato blu Adesso Devo selezionare un veicolo Sì ok Che io e la mia lista è bloccata è Inbloccata E la mia lista è ancora bloccata Quindi Cazzo c'è un clamore importante E mi ammazzeranno Comunque Spero Non ho capito se è la foto che È fatta male Oppure la proprio la La grafica qua che rovina Perchè non è che si vede tanto Della storia del diavolo Ok mi è tornato Eh beh Sarà forse Sì ma il vincitore poi Jacopo È stata un po' allargata la foto eh Quindi Ah Che si vede È un po' normale Beh sta Ma pensa se entra sua sorella Chi è che devo chiccare la TS? No ho capito chi l'ha chiesto quindi Eagle Ah ok È vero No 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 Dio Un attimo Beh si stai lì a comprare chissà che cosa Dai portiamo in fretta così i miei alleati non si lamentano che Dovrei fare una clamore Guarda quello col canzionoscista No questo è qua Prego prego invitatelo È questo È questo E non è la Dani scusa No No Ah ok Guardi l'ho già sentito il gioccalale eh Ah Duncan Duncan Ricorda sui disforfan che hai tutti i replay attivati in teoria Perché Gli ammutinati d'Italia Si è uno di quelli che abbiamo Ma scusate questo è destramento Cosa stiamo aspettando? Sì Nostramento Cosa stiamo aspettando? Eh Aspettiamo che Rorschach metta il car ok Ma scusate questo è destramento vero ragazzi? Sì Ok perfetto No perché non sono ancora pronto Mentalmente Perché è una SGB hobby? Perché io devo fare la safety car Perchè non devi spostare i pedagli eh Dai partite su La sposti car Devo spostare un Panther 1-5 Comunque Antonio veramente milanese è diventato eh La Dani Ma che è successo? Ma che è successo? Ma che è successo? E iniziano a chiamare tutti quelli sotto al potterrone È una cosa allucinante È un po' sgranata eh Ma che cazzo sta arrivando? La Dani hai detto Antonio Stai diventando una roba milanese Proprio una belcia milanese Eh no perché loro dicono così E poi tutto vede un modo sai che capiscono no? Ah fa culo Capisca Casi capisca Perchè si rende con Eh appunto Eh esatto Vai a mano Ma sai che c'è c'è tanto ora Sì 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 Tutto due le schede il pilota Che merda che sei Ma perchè stai con i proiettili tu blu? Ah c'è anch'io i proiettili Cacciateli Bannati Bannati Subbato Subbato Che carino dovevo usare una repubblica anziché sprecare i soldi Max che vi seguo in streaming galattoli mandagli un saluto Sì 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 Questa non è vero la battaglia ufficiale ancora a te Salutiamo quel frocio di Max Ciao Max Ciao 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 A proposito A proposito A proposito Oh no ti aspetto kill for no A proposito Spero che non passi Gigi perchè in teoria c'è un conto in sospeso con lui Anche io Anche io Vieni compagno di squadra vieni qua Ah già non te l'ho detto Ho mezzo litigato con Gigi Nooo E' mio ero Dove ho la cazzo devo fartelo vedere Ho detto Hai visto? Prigini Prigini Quindi parliamo no? Ci ho cavallo Giorno Raga la retromance non la riesco a fare bene Si vede se non bricchino più ecco Ci vede se non bricchino più ecco Ci vede anche la mamma No aspettiamo che ci vuole fare Allora facciamo come sarà nella realtà Dove è La safety car Dove è Mase? Ragazzi Mase devo spostare il calaveri Mase vieni qua Bip bip arrivo Arrivo Oh la pistola Se volete se no do il via io Tanto mio nipote sta correndo al posto mio Si 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 come no Ci siamo dentro nei tempi si Guardi Io blocco tutta la fila di dentro Ma queste costruzioni qua davanti non si possono battere le cose perché sennò quelli che partono a sinistra posiamo il culo Ho fatto apposito Sapete cosa sarebbe figo? Fare La devo fare anche 3-2-1 Ho sempre da dietro il carro Come vuoi 3-2-1 e quando spari partiamo in Mase No Quando spara partiamo Pronti Benissimo Amiche ha sparato Ha sparato Forse era meglio prendere il G spazza le gemme Adesso sti così quando arriva buco Invece di baucare Che bello Chissà che ammazzo adesso Si Vai Lo sapevo io Mi chiamano male che non è ancora rava Adesso il primo salto ne muoiono 5-6 Guarda Guarda 3-2-1 3-2-1 Cazzo sei chialza bruttiva Pintara cosa cazzo avete messo su? E città Oh cazzo Niente Nooo 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 Mi sono ribaltato Nooo 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 Chi ha quel pass Il problema è sempre lì che io non ti scheggi Ma prego Oh il mio compagno di squadra Poi mi devi venire a girare tu eh Cioè non facciamo scherzi perché qua ci gireremo ogni 30 secondi E' un po' come il resto d'avanti E' un po' come il resto d'avanti E' un po' come il resto d'avanti Ha andato su Warwick era l'ultimo No No Ma è vero Ma il cuore ZIG perchè questi bastardi hanno messo gli equipaggi super skillati Mh Un equipaggio skilletto scherza così duro che ti ripai tu Si è vero si occupa un po' più avanti ancora figa è possibile tutte le volte che mi cappotto si è cappottato e che mè? è blu guarda la strada ancora no l'altra parte rage guarda l'altra parte rage no mi vuol far affogare ah ecco si fa il giro oppure si fa direttamente la figlia oh e no dai però di qualche è nell'escalamento ho calcolato giusto cosa fai eh rage rage non puoi fare fuori i due bravo gizmo no gizmo povero ma la vera domanda è riuscita a fargli sei giri no non ce la faremo mai secondo me non arriva secondo me conviene andare pianissimo e chi va piano vince si figa io sono scorbo il primo è il gianluca e infatti gli sparerò non sono io il primo sono il secondo non sei il primo per me ok inutile che cerchi tante scuse io oggi ci sono sei il primo non ho rotto il cingolo ok allora dai sono il primo sei piano il nuovo primo è fritto salva gli altri e non salva Firo è troppo lontano che si 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 non fate sofferti duncan scusa mi sarei veramente tu sei giri vuol dire a sesto giro cioè il primo il primo giro è il primo si finisce secondo si finisce terzo si finisce quarto si finisce quinto si finisce il sesto si gira a destra verso il traguardo ma all'inizio del sesto o si fa il sesto? no si e no perchè non è capibile vedere nooo ma no mi sono rigirato da solo volevo provare a prenderla mi sono rigirato un'altra volta che figata capito Ispiro è il primo è fritto no 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 al massimo sei si va al sesto ti tracco e basta no non ce la fa e dopo quando c'è ciliegio adesso io faccio il zio da una linea verde quante volte ci passo comunque manca cinque minuti al sesto e beh questo zio è il due dai allora prendo le 100 un bel bote esatto solo che dopo sarà in tema tedeschi poi sarà spostare i carri il problema con la velocità delle 100 non lo sai l'fv4i e tu? no al massimo l'ho fatto è super figo saltando sopra le 100 sto correndo sto correndo come non so corso è vero potresti metterlo sotto le 100 e così basta che calcoliamo male ci schiantiamo sulle 100 non è vero potere ma qua ci sono due che si ingroppano i carri morti ci sono lì oh mi ribaltò la tua non è vero potere 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 io ho puntato questo qui davanti chi è? io ho doppiato gizmo auto poi si va a fare una pista migliore prendiamo se la un'altra emoccia mi sembra raccom carrina cioè io ho portato ma mi sembra pure prendere i muri allora adesso non vraiment ho aspettato se ti viene con quella c'è spot in intercambio costa costa di acqua non si possono mettere di mar io le porto proprio io lo so cosa è il corpio non mi portare le palle la domanda se spiro dovesse magicamente pochettino no squalifico dal gp cazzo vi è fatto. lo puoi fare una volta fammi provare finalmente il salto bello forte vediamo se riesco amici brutto ho fatto e prende andrea steve puoi partire a farlo vuoterei se è pronto con la mappa ho creato la stanza no 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 è già pronta è già pronta ho cingolo ho cingolo stiamo facendo delle prove adesso appena finiamo questa poi partiamo perché 9 e mezza mancano due minuti dove vai in realtà non manca un minuto adesso no è stardo comunque rispiega dopo il fatto del giro comunque ti ho buttato una volta sparare a gianluca è un master no 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 che brutta merda che sei traccato un panzer 1c dico solo questo io mentre ero in volo stronzo è stato tutto molto scenico uscì che sarebbe da salvare solo per questo dove è facco scusa è già morto mi sono suicidato su di tu e su di chat ah si è vero è brutto che non si vedono i nomi cazzo no aia manca un minuto aii aii ragazzi se startiamo a 9 e mezza riesco a fare la gara io e posso rifarla fare a mio nipote è finito basta uscire basta uscire ah no basta chiedere la gara basta chiedere la gara vittoria schiacciante finita? si adesso possiamo metterci tutti e poi startarla in realtà tra un minuto o due tanto tempo che entra che tiriamo dentro adesso Andrea aspetta spero tutti i kit piccoli ok ma anche c'è un incendio piccolo mi ha detto non sarà niente è un po' difficile andare in fare in fuoco posso dire una cosa è organizzata facco quindi tutto piccolo mmm esatto anche la ventilazione è piccola ma anche il gas piccolo si 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 tutto piccolo io ci sono sportatevi ai gas non si può mica non usare ma che è intratto air wing ah quindi si può usare il carburante a 108 giusto? no no tutta roba piccola vedi che non sale fa bene un po' facci partire tutti dal rosso no no quindi al sesto giro giriamo alla fine del sesto giro giriamo allora praticamente noi partiremo dalla riga verde tutti allineati partiamo da lì e faremo uno due tre quattro cinque passaggi sulla linea verde una volta che facciamo il quinto passaggio sulla linea verde vuol dire che siamo al sesto quando arriviamo alla linea rossa del sesto giriamo a destra dobbiamo arrivare sulla rio con la con la con la blu quindi il quinto passaggio è l'ultimo diciamo cinque passaggi sulla linea verde il sesto si stesse sulla linea aspiro come mai non posso darti i poteri del del scusate io che non so contare come faccio guarda gli altri no facciamo cosmo sena contro te dai mettete il carro vabbè ognuno si conterà troppo vabbè ma più ognuno siamo lì e adesso quando sparo andrò a pisciare eh ma se il problema se la facevano più tardi all'ultimo all'ultimo giro o agli ultimi giri magari ti metti zona dell'arrivo dopo così guardi chi arriva l'ordine di arrivo quei pochi che arriveranno lo guardo male no se non vuoi stare lì a scriverti lì giù massimo mi fai accortirmi dai replay dopo me lo carichi sul ts così me lo guardo ma i compagni di squadra possono andare in squadra insieme in che senso andrà in squadra insieme i compagni di squaderia lui dall'altra parte mi fa mi va in panico no no ma eh sì posso dire una roba forse è meglio se state nelle squadre separate perché così avete la visione di tutti sì però ci danneggiamo anche la vicenda più forte ascolta già è difficile partire Jacopo se dobbiamo far cambiare a Duncan in tutto ci si vogliono 6-7 mesi Jacopo e poi avete fatto fare tutto a Duncan mannaggia voi l'ho imparato in 6 anni io lo conoscivo adesso dobbiamo pure sperare che Freaky Frights metta il carro eh aspetta eh ma Freaky Ingegnere sai che aspetta un attimo che sto cambiandolo ha speso 500 di oro secondo me ha messo ha messo ha messo ha messo una mimetica più a riuscire si 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 ha messo ha messo una mimetica cosa chi sei chi sei io sono senza squadra infatti è brutto che non posso vedere i nomi di 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 anche io sarei insieme a Erwin quindi teoricamente siamo insieme vabbè aspetta un attimo fermi prima di partire devo segnali ma tipo dovremmo andare ognuno in stanze diverse per scuderia così se volete andare in stanze no bastardo voglio che le bastardate le dici che le sentano tutti no no devi stare qua dai no devi stare qui Jacopo aspetta un attimo solo ah fermi tutti facco con chi sei con Scorpion e con Erwin Roman ragazzi giratevi quando mi ribalto eh che qui è è a eliminazione non conta arrivare ai primi conta arrivare vabbè al massimo al massimo te le segni dopo sì sì vabbè però già che c'ho il foglio aperto gli segno loro tre dopo la stanza non gliel'ho ricreata però tanto stiamo qua eh qualcuno ha altri dubbi quindi ci troviamo tutti alla linea se avete sui proiettili vi consiglio di toglierli ci troviamo tutti alla linea verde ehm ci allineiamo alla linea verde dopodiché ehm il Mase quando gli do il via lui si prende tutto il tempo che vuole sparerà allo sparo si parte si fanno cinque passaggi è meglio fare un contro la rovescia no no niente contro la rovescia ah di contro la rovescia poi spara no no lui spara quando vuole perché così devi stare attento al rumore magari qualcuno fa che silenzio aspetta dato che c'è domani possiamo levare il bot ehm si basta mutarlo basta mutarlo ma se no ci spessano giù sulla grazie ho spostato sul vabbè ma mutatelo se no se vi da fastidio io ce l'ho mutato no blu non ce la faremo in pura noia tranquillo si credo che arrivi il 10% si penso pure io se va bene allora a metà giornata quando partiamo dovete fare cinque passaggi sulla linea verde dopo aver fatto il quinto passaggio sulla linea verde voi state compiendo il sesto giro al sesto giro dopo la zona rossa quindi dopo la sorella di Jacopo si gira a destra si va sulla bandiera scacchi ma guarda un po' è tutto chiaro ah no no aspetta una domanda ma la partenza conta come già un passaggio no? no no quindi si fa 0 1 2 3 4 5 traguardo si vede che è informatico 0 1 1 0 un 0 1 1 0 si ok ecco c'è gente che mi scrive in telegram gente che non gioca a Watt perché gioca ad altri giochi non è neanche... la mi scrive in telegram mi scrive partite o no dai che domani vado devo andare a alzarvi prezzo stanno guardando lo streaming e io devo andare a un compleanno con i moviti ehm... ehm... oh si secondo me dovremmo essere a posto se non avete dubbi possiamo anche stare poi ci troviamo tutti alla linea di partenza è entrato un Duncan selvaggio ok dai mi raccomando niente proiettili ah troppo tardi Anki spara si tira al Watt si tira al Watt entriamo ha un caricaggio in più faccio lo spam anche su Watt in Italia si nooo non fanno quello meglio di nonno che stai lontano dalla resta della community meglio è ahah eh no la faccio stavo facendo caricare il gioco a mio nipote perché se partivamo adesso riuscivo ma però mi sta chiamando anche mia moglie vediamo se riesco a mi chiede l'agenzia dell'entrata intanto comincia a startarla intanto siamo pronti ma abbiamo sei spettatori di quali uno sono io ah vabbè ah sto ricaricando ah ah non ti ho visto lo schermo di fa questo non è lo schermo mio pacco Twitch no pacco aiuto perché è un partito fino a che non ci mette le mani in spiro io su Twitch non ce l'ero mai penso io insomma qualcuno ci deve mettere le mani l'avete capito raga possiamo partire per favore eh stiamo aspettando d'unca te l'ho detto che non bisogna dare i comandi a d'unca no 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 volevo farlo entrare il mio riposo che prendeva il posto del bar notte mafia d'unca questa va bene d'unca intanto parte poi e come faccio a tirarlo dentro se parto secondo te eh si ah perché è un altro account volevo farlo entrare perché prende le vici del barba perché se faceva da jolly tra me e barba a proposito ma il barba? eh è giù alle lezioni a fare i seggi ah ma oggi ci votava ma ha detto che è giù a contare le schede ho capito no le schede lui dubito che le conti infatti quando sono andato a votare a farle dietro ho schiacciato no 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 vota e poi ho preso il tablet l'ho piegato in quattro e ho detto adesso dov'è che devo mettere il tablet mi ha guardato un po' male non si piegava come la scheda ho piegato il tablet in quattro eh è tra sei l'ho piegato l'ho piegato e ho detto tu sei con barba e basta? basta che partiamo perché devo andare a pisciare anch'io ho due secondi se gli va bene se no andiamo allo stesso perchè secondo me la cognizione del tempo è da quando sono degli ossimo nello che ha problemi di tempo che devo andare a lavorare forte un attimo, un attimo adesso devo dire una cosa importantissima ma marina sei in televisione un bacio oddio no che film Che film Oh madonna Vediamo che c'è la mappa Bello col tablet, c'ho lo streaming sul tablet Così guardo dove vanno gli altri Poverida Vabbè perché è difficile dove vanno gli altri Comunque a facco un attimo lo sono Scorpio E con cui sono oltre a te Io, te e Derwin Rommel Cerchiamo solo di girarci Ragazzi quando ci ribaltiamo Non c'è la mappa Niente partiamo noi dai Sei pronti? Eh sì, da un po' 16 ore e 30 più o meno Eh volevo fargli non perdere la gara a barba Ho messo il carro sbagliato No No, non so L'altro qua non so quanto convenga Ne prendo l'interno, non è l'esterno La partenza sembra fatta apposta Per ammazzare il maggior numero di persone È come tutte le partenze di qualsiasi Gran premio Perché tu vedi quel vincolo, no? Quelle due strade dove una è più larga, lunga E dici, hm, ma è stupido chi va là Poi forse è il primo che esce Se ci vanno solo Mi spingete e fin qua là No E di blu come aveva un passaggio a sacco? Aveva forfondito qualche rumura No, quel cavolo che aveva un po' Cerchate di non abbatter nulla Eh vabbè qua, ci devo passare per forza No, potrei anche fare il giro come l'ho fatto io No E' una penalità e basta Ma se mi ribalto adesso qualcuno mi gira Sto facendo il clan Cazzo ma facco ma smettila di continuare a zoomare Mi stai terminando a vomitare Cazzo guarda Oh mio Dio Mi viene da vomitare con la tablet Madonna mi sono cappottato e sono ancora io Zero di vita ha perso, zero Ho spottato un panzanino C L'hai visto Rage? Sì, l'ho vista qui Madonna Ma aspetta, adesso devo far ristartare o non mi fanno partire Una delle due Oh, sono stato spottato Vediamo se Vediamo se fanno ammazzarci Ma sei blu Blu, famo un Hacous Stiamo lontano così se uno dei due viene colpito L'altro rimane vivo Vi portate freaky E' il Zygmoth Ecco il nostro accento che si mette in posizione Ecco A meno lui si sente Aspetta, prima di un da adesso posso sparare Si, no, glielo dico io Quando sono tutti pronti Ah, ecco Perché sennò sai Ho iniziato davvero un po' troppo in pretese qua Ma te, sto coso va veloce Boh Io direi che Siamo pronti Masa quando vuoi Il tuo momento E vai a Mishar adesso E vai a Mishar adesso Sta un push Vado a Mishar E vedrai che ci sarà molto meno genio Anche secondo me Beh, prima vado in posizione La può spostare i cadavri Qualcosa cosa Io vado sull'automira di blu Guarda Warry Guarda Warry Ma che sto pensando Passare davanti a tutti quanti Nooo! 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 Si mi stavo cappottando ma in qualche modo se non posso ancora correre finge all'inutile vita di Antonio Nooo! Aiutami! No! Spiro tregua! Che palle! A tua porca miseria No! Blu! Cos'è successo? Motore Maton! Ah il motore è E5 Si diciamo che un po' tutto il carro è dato puttane eh Se stavessi male No ma come ho fatto d'uccideremo Perchè ha ucciso Waray scusami Ve lo scrivi? No guarda che pezzi di merda Ragga di brutto Cioè non so ma qui come ho fatto a salvarmi E non è che ne cominciavamo no? Ma Waray sicuro che ti sei scontrato con me Per aria? Che cazzo? No io ho detto molto prima Danca tu impari a guidare porca No ma era il mio scopo uccidere quello in parte a me Ma non sapevo chi era Va bene va bene adesso che figa Mi devi doppiare maniche No Tranquillo ora friki friki Tranquillo ora friki friki Oh scusa scorti In poco la tre rua con te E' Igor con te Che gare Sì Ah ok ma sei il gol Guarda Spiro che Ma stai usando volante? Ma stai usando volante? Abbiamo già perso gli offer che ancora Sì Davvero Ray stai usando volante? Ah no Ah no No mi si è chiuso i piedi Vaffanculo Spiro Mi aspettavo una trollata così Ecco appunto Cazzo ne so Lui è strano ci credo anche io Vabbè quindi non si fanno altri giri no? Eh te no direi Vabbè ciao allora Ciao ragazzi Ciao Igor Eh Spiro ha tagliato Spiro ha tagliato Spiro ha tagliato Bene quindi uno Giusto siamo al primo in sostanza Esatto il primo giro Oh sono quarto Blu a che punto sei tu? Ehi T'ho riparato sto arrivando Io mi avevo in mezzo alle palle sto Chi è che c'ho a sinistra Qua con il pangernucci Con la mimetica maculata Scorpion Oh iacopo schiantati Zocco Oh cazzo T'ho terzo blu Oh cazzo Chi è questo? Cazzo Ma io raggo Hai ragione Rinunciare tutto a scagarare Cazzo il cingolo Merda, son tornato quarto Ah, dai Uccili, uccili Devo andare a rammarlo I ranvalgono, no? Vero, Spiro? Basta che non sono coordinati con i compagni di squadra Lo son fatti, tipo, sbacchio dare, vero? Ah, son tornato quinto, comunque Bravo Mannaggia, ma adesso qualcuno qua si romperà la uova No, 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 carro di merda, no Sto cercando di sopravvivere più di che vengono la gara Ecco Gianluca garante le palle Vedo che avete aumentato i minuti Oh, no, no, no Grande Terzo, trazione, 60 Oh, no, sono tornato terzo Vai che son vicino Mi sei scattato il quarto, tipo Mi spiace, t'ho visto lì così Avrei voluto aiutarti Eh, guarda, vedrai Fosti Eh, sì, probabile Perché mi rompo di nuovo il cingolo Se mi rompo adesso C'ho 20 secondi d'attesa Sai che l'antischeggia mi ha salvato Sono un po' più pesante, però No, no, no No, ehi Stava andando di là giocare Cazzo, ma quello è zico Io c'ho freaky davanti Ma non riesco a togliermelo dalle scatole Guarda come cazzo va Disforfan Ma cazzo, fa andare così veloce Disforfan Ma che ne so Adesso mi hanno passato tutti sull'orecchio Bastato Dammo davanti Adesso un secondo, dai Sono eccitato Eh, non, ti è eccitato a poi Salutate la Dea Ah, non sapete che quando passate qua dovete salutarla Ehi, ma perché tu non ti sposti No, sei ancora vivo Sì, vedrai qualcosa di veloce arrivare alla terza tranquillo Ancora, Cristo santo Io ho il vizio di soltare il cavo Eh, sono sempre terzo Sì, dai E ho usato di nuovo il kill nella stessa posizione di prima per questo Eh, infatti mi hanno recuperato entrambi sti due Dai qualcuno che muore perché se no mi sento solto Eh, se lui lo vuole Eh, vabbè, lo sei lui Eh, fra un po' ti raggiunge blu Beh, fra un po' ti raggiunge blu Ho visto che ha tipo Cazzo, che è successo? No, cazzo, mi so Mi so Pronto, arriva, fritti Oh, cavolo Tu dove sei? Eh, dietro Mi ha fatto capotare sul lato e mi ha fatto capotare col proprio Soltate No, l'ho riuscito a capotarlo Non sono passato Voi a prendere con lì davanti che ti sei goncia Va bene Oh, no, aspetta Ti lascio passare io Ma se io ho il cingolo non rotto ma danneggiato vado più lento Sì, è un pochino Sì, maledetto, ecco perché mi superavano tu Ma no, che dici? Oh, no Non è vero Non lo trolavate, io come sempre ci sono boccato Ma è vero, va un po' più piano col cingolo rotto Perzi più piano Ah, mi fa bene ripararlo quasi quasi adesso Vale mettere il cingolo subito al nero del circuito Vale come cordolo al nero del circuito Ah, sei tu, dunca Sì Ma non riesco più a recuperare i fritti Eh, ho riparato il cingolo Anche io ho riparato adesso Cazzo sono l'ambiente Eh, eh, il tito di Jacoby, il tito di Jacoby Sì, dai, ma che caro Ho spersato troppo Ah, dalla prima è un po' più larga Bocciatelo, bocciatelo Vai, vai, vai No, no, vieni, vieni, che vai Fingui scia Dobbiamo andare a prendere quel panzer 1c Che non so chi è davanti a noi C'era C'era? Cazzo, stacolo qua Ma chissà chi cazzo è quello? Com'è, blu? Arrivo Sei sempre ultimo? No, no, mi sa che so io L'ultimo qua Sei ben ultimo? Fantasio Sì È più grande Tanto qualcuno ancora si lancerà Oh, cazzo, Dio, viste Fa il culo Che cazzo, che cazzo C'hai provato, strozzo Me l'aspettavo in una maniera, guarda Project Cars, aro, del cavo Ma non ci sono i tuoi di Project Cars a vedere? Che nesta Ma che limbi Cazzo, ragazzo Vuore, ma sono molto più amanti i froci davanti a me Blu, stai attendo perché c'hai 10 di vita, vero? E lo so No Sapevo dovevo prendere un altro compagno di squadra, mannaggia Devo prendere Rage, che era bravo a dosare No, dovevi dirmi che ci stavano seguendo la polizia, vedavi come faceva In effetti Ma se sei 4 secondi inizio, dai Oh, soffrivo Oh, soffrivo, ma se ti ho buttato Ma che giro siamo, Rage? Eh Bastardo Che giro sei? Che giro sei? Spry Dai, ragazzi Quello che è lì, quello che stai per passare, tu non è essere il quarto Ah, ok Quarto, no? Spry Dai, sono troppi da ricordare, devo star concentrato a guidare E io no, scusami No, tu no Assoluto E qui sera E quel panzerismo Siconoscritto Iacopus E' varzi E' secondo E' primo secondo stiamo a pari merito di scorpion posto posto per non mollare adesso scopo sto fatto una cagata alla in questo questo dovrebbe essere l'ultimo no 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 questo è quarto questo è quattro no 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 è quattro no no è cagare i frichi è l'unico è l'ultimo buon salto lo so lo so attenzione il sorpasso quanti minuti? si ma io e te scopo e continueremo così mi da la fine credo fin quando uno dei due non si ammazza o perde il cingolo questo è probabile no no cazzo ormai c'è blu che quando faccia il team cazzo no 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 che culo cazzo vediti non frenare qua lui è l'ultimo vediti non ecco bravo ma bo tanto valgono i primi due punteggi quindi ti posso buttare le tue oh cazzo non frenavo qua mi cappottavo e c'è questo gatto l'ultimo è l'ultimo è l'ultimo minchia non lo recupero più mi sa che mi devo accontentare il secondo se riesco a mantenerlo eh lui no no mi hai fatto sconcentrare hai fatto divertiti dietro non mi è piaciuto fatto una cagata adesso ti subito adesso ti subito io spero e si ammazzi scorpio ma dubito che lo faccia se un vantaggio così alto quando blu fa il saltino qua c'è proprio la finestra di merda sai quella cosa che hai fatto rage urbo eh 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 dire di pannarlo penalità penalità date i miei giusti punti a me date i punti a warre io inizio a muoverlo a parte che già bella botta mi sa preso i punti quindi eh il mio compagno di squadra mi ha rotto il cingolo no no il mio compagno di squadra è l'ultimo in questo momento eh eh io sono vicino all'ultimo no qual recupero te scorpio? ti ho recuperato di brutto qua eh perchè uno è un marotto ma io non riesco a raggiungere spiro mi davo un fastidio guarda com'è tranquillo non posso rischiare di romper me eh io devo mi sa eh ruine lasciami passare perchè sennò mi rompo con la cingola ruine è l'ultimo si ah sei tu eh si sono eh ho usato i kill da riparare il cavolo di cosa già eh dove mi devo mettere eh sorpasso che la sei più santo rommel davanti e Jacopo basta capottarti cazzo che salcissi prima che salcissi prima falco tu l'hai visto il salto? si io l'ho visto eh mi servirà per play e palotti qua palcare molto così io sono esploso no figa c'è quello che mi ha passato ma rage c'è troppo culo eh rage ragazzo blu ho fatto un altro cappottamento e mi so scappottato no no tu non hai idea di che cosa ha fatto rage puttalo sotto zi madonna ho perso guardalo guarda che bastardo friki guardalo 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 guarda cazzo avrei potuto recuperare su no la figlia bella dai li ho inculati tutti e due fondetemi allora io a sinistra il tuo a destra e lo chiudiamo questo è l'ultimo vero scorso? adesso mi li frego adesso mi li frego tutti e due adesso mi li frego tutti e due quindi adesso devi girare a destra si tu lo ho visto butto giù rom è qua lo butto giù affondo a sei davvero cazzo eh sia non sembra ma ma che coglione ecco sono stato fatto il salto di traverso il fuoco grazie Danca che ci accompagniamo mi sentivo ehi a destra a destra a destra a destra a destra vai 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 Spiro ricorsa ricorsa vai sono secondo eh Spiro a tagliare non ti capovolgo all'ultimo congratulazione Scorpio all'ultimo vieni qua che tiramo ci ammazziamo no 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 anch'io prendi Scorpio anche a fine vita vuoi festeggiare la vittoria di Scorpio ahca fia 200 dai io sono quello da uccidere vediamo se vi beccassi ну tu hai detto vediamo se mi beccassi Ma non è così Come non basta? Non è che manca ancora friki E friki Pazze Mi sono più affrontato all'ult Parica un H che voglio vedere in cui posso ne metterla Ah non credo Non ha partenza il black È un 200 Blu che finì fatto Sto ammettato Che cazzo ne so dove è blu Puttana che paura cazzo Mi ha fatto fuori in mezzo Vizimo cazzo Ma dov'è friki? È blu Che è l'ultimo mi sa Ah che penultimo Ah mi ha mancazzo Ah Erwin è morto Ah erwin è morto Erwin è morto Cazzo guarda che è 10 di vita C'è un croce Ha fatto quasi tutto il gp con 10 di vita E non è morto ragazzi Tutti i salti che c'era Sì grazie Complimenti per questo Allora Vabbè dai Lascio in viso alle 100 Vai blu Lui ce lo puoi fare Lui ce lo puoi fare? Adesso da arrivare E lo fai Eccolo Eccolo che arriva Eccolo che arriva Eccolo blu No 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 Sta puntando a me sta puntando Rammelo rambele 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 Rammelo rambele rambele Rammelo rambele rambele Ma le godi Quindi io sono arrivato ultimo Però sei l'unico sopravvissuto Esatto Esatto Ha vinto Ha vinto Ha vinto Ha vinto l'esport La prossima volta cambieremo Il punto Eh sì Ci sono 15 diversi Ragazzi Io devo andare a lavorare Quindi posso togliere questa Ok Ciao Duncan Ciao Ciao E io Staco ci vediamo domani Ciao 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 Ehi Giovi Ehm Ehm Come si chiama? Chi è arrivato primo Scoppionalo 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 Si è arrivato secondo Iacobo Secondo secondo Spero che sono arrivato tra i punti Certo Quelli che erano i punti Si ma voi? Si credi si Poi chi è arrivato terzo? Io non lo so quanto sono arrivato Si è ucciso dietro di me Ehm Ah certo sono arrivato io Chi c'è Quarto spiro Terzo chi è che è arrivato allora? Lubix Ehm Ce l'hai il replay tu Vabbè ce l'ho io se vuoi ero lì tanto Ah ho sei si Forte Zygmo forse è arrivato terzo? No No Seraph No terzo no Ah no tu ti hai ricapottato dietro di me Per me ero io terzo ma non sono sicuro E' vero O terzo quarto Sei la pera più veloci di me Voleva infilarmi Ah allora No è andata di sfiga Mi è partito lì Non so chi era terzo O blu O blu Tre volte mi son cappottato e scappottato Cioè Tu non hai visto cosa ho combinato La carica del tour e play Jacopo così Strapolo quei pezzettini lì Già all'inizio che ho detto dai provo a fare un climb In uno mi sono caduto di punta e ho rimbalzato in avanti Spiro Cos'è? In uno sono caduto di punta e ho rimbalzato in avanti e mi sono scappottato Forse warrace Era sulla mia visuale forse perché E' vero No 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 No